Oggi c'è stata la presentazione di Antonio Conte e c'era l'allenatore, ecco già questa è un'anomalia che presenta un allenatore e l'allenatore c'è, che mi sono domandato ma come mai? Non si fa una cosa, no, vabbè, si vede che è una cosa nuova quella di presentare l'allenatore senza l'allenatore, l'allenatore è fantasma. Allora intanto vi posso garantire che Antonio Conte non è uscito da un cono d'ombra, come molti spacciatori di frottole su Twitter sostenevano, ma è stato proprio presentato, era ben vestito, tutto c'era anche il presidente De Laurentiis e ha fatto la sua prima di fatto conferenza stampa da allenatore del Napoli e ha detto alcune cose. Adesso volevo leggere alcuni passaggi della conferenza stampa di Antonio Conte per chi magari non abbia avuto modo di sentirla o per chi magari volesse anche semplicemente riassumere le parti principali. Per oggi voglio proporvi un gioco, voglio fare un gioco con voi, voglio fare un gioco dove io vi leggo le cose che ha detto Antonio Conte, poi vi leggo delle altre cose e voi dovete indovinare chi le ha dette, ok? Naturalmente sempre più o meno lo stesso argomento, no? Quindi prendiamo spunto da una frase, da una parola, da un pensiero di Conte e poi vediamo altre cose che sono state dette a riguardo e chi può averle dette. Facciamo questo gioco, dai. Allora, cominciamo. Dunque, Antonio Conte dice L'obiettivo per un allenatore, al di là di primeggiare e scrivere la storia, è quello di rendere orgogliosi i propri tifosi. Il tifoso deve riconoscersi nella propria squadra. L'obiettivo massimo è renderli orgogliosi. Non deve mai esserci, dice Antonio Conte, l'attenuante di non aver dato il massimo. Mi stressa in un modo che non ho mai sperimentato prima. La mia idea è sempre stata quella di guardare allo sport come a un qualsiasi altro settore. Si possono produrre widget a Omaha o possedere i Giants. Dovrebbe essere la stessa cosa. È stressante possedere cose in generale, trattare questo tipo di denaro, essere un fiduciario per ricapitare di terzi. Ora un nuovo livello di stress che non ho mai sperimentato prima. Grazie ad Alfredo. Chi l'ha detto? Torniamo ad Antonio Conte. La passione per il calcio, dice il tecnico del Napoli, è una peculiarità per questa città. Noi dovremmo cercare di alimentare questa passione. Deve essere una responsabilità. Avremo una faccia incazzata. Questo deve essere chiaro. Un Milan felice. Ho un obiettivo, e l'ho detto a tutti. Essere felice è allenare giocatori felici. Felici di giocare insieme e di giocare un determinato tipo di calcio. Chi l'ha detto? Torniamo ad Antonio Conte. Veniamo da un'annata in cui tante cose non sono andate per il verso giusto. Bisogna trasferire questa voglia di rivalsa in campo sotto ogni punto di vista. Siamo stati i migliori dei normali. Chi l'ha detto? Non sapevo che solo Real Madrid avesse più Champions dei rossoneri. Un asset che non abbiamo sfruttato abbastanza. Chi l'ha detto? Torniamo ad Antonio Conte. Ci vorrà tempo e pazienza, ma io sono del pensiero che chi ha tempo non deve aspettare tempo. Dobbiamo prenderci la responsabilità affinché Napoli diventi alternativa credibile a chi vince sempre lo scudetto. Io ho in mente che il Milan deve essere in Champions League sempre. Basta, altri obiettivi non ne ho. Se mi piace vincere lo scudetto, sì, moltissimo. Ma non è il nostro obiettivo numero uno. Chi l'ha detto? Torniamo ad Antonio Conte. Chi ha tempo non aspetti tempo. Io partirei già domani a fare battaglia sotto ogni punto di vista. Devi trovare un equilibrio. I tifosi ovviamente vogliono vincere sempre. L'ironia nello sport è che se vinci ogni anno rendi la competizione meno interessante. Chi l'ha detto? Torniamo ad Antonio Conte. Non bisogna pensare che cambi allenatori e facilmente si torna come prima. C'è un progetto. Non possiamo competere come con le solite note per il monto ingaggi. Neppure con gli investimenti. Ma possiamo farlo dando basi solide con cultura del lavoro. Gli altri possono essere più forti a livello di ingaggi e investimenti. Ma sulla voglia di vincere, di ammazzare sportivamente chi sta davanti, non ci deve battere nessuno. È solo che qui ogni tanto l'emozione prende il sopravvento. È qui che la cosa migliore che possiamo fare per gestire questa risorsa per l'Italia e per i tifosi e assicurarci di prepararla per un successo a lungo termine. Chi l'ha detto? Torniamo ad Antonio Conte. Sono stato molto chiaro con il Presidente. Prima di parlare di contratti o di aspetti economici, ho voluto una sola rassicurazione. Avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi poteva anche prendere altre strade fuori da Napoli. Sono stato categorico. Perché se parliamo di riscatto, ricostruzione e diamo via i migliori, è tutto un controsenso. Il Milan ha un allenatore, non un manager. Con Conte non abbiamo discusso perché, con grande rispetto per lui che è un grande allenatore, non era ciò che cercavamo. Chi l'ha detto? La risposta è dentro di te, ma è sbagliata. Chiudiamo con... Anzi no, proseguiamo con Conte, con Antonio Conte. Quello che io non posso promettere qui è sicuramente la vittoria. Ne vince una sola. Posso promettere che saremo competitivi per la vittoria, ma poi sapete benissimo che è molto difficile perché ne vince una sola. Testa bassa e pedalare. Oggi bisogna parlare poco, dobbiamo fare i fatti. Niente proclami, sono la persona del fare, non del dire. Non vendo aria fritta e non sono molto paziente. Quindi dobbiamo stare zitti e pedalare, cercando di recuperare quello che abbiamo perso l'anno scorso. Occorre trovare un equilibrio tra l'obiettivo di vincere ogni anno a breve termine e quello a lungo termine della sostenibilità e la consistenza nel ridurre la volatilità e la variazione della performance. Chi l'ha detto? Antonio Conte. Quando parlavo di costruire basi solide, le competenze sono importanti perché comunque so anche che posso migliorare il calciatore. Spesso e volentieri ci sono riuscito. I numeri spesso non dicono la verità, ma ci sono. E devono fare riflettere. Lo scorso anno il Napoli è stata la decima peggior difesa con 48 gol e siamo finiti decimi. Il troppo offensivo non porta da nessuna parte, il troppo difensivo neppure. Ci vuole equilibrio, bisogna fare riflessioni e capire. Tutta la squadra lavora o non lavora, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Dobbiamo fare un gol più degli avversari, perché è meglio così. Le caratteristiche dei giocatori, dice Antonio Conte, sono importanti. L'allenatore bravo è quello che mette i propri calciatori nelle condizioni di esaltare le proprie caratteristiche. Non andrò mai a snaturarli per le mie idee. Queste sono le dichiarazioni di Antonio Conte. Oh, mi raccomando, partecipate al gioco, perché se riuscirete a rispondere esattamente a tutte le domande, vincerete la terza maglia del Milan di quest'anno, che ho comprato in grandi quantità, sperando di fare un affare, e invece mi sa che mi resta lì a magazzino. Poi c'è stata anche la parte di Antonio Conte che risponde a una domanda che gli fanno su Ibra. Dice, io rispetto tutti, non ricordo bene cosa abbia detto Ibra. Io mi considero un manager. Il presidente dell'Aurentis lo sa benissimo. Da un punto di vista tecnico, gestionale, nell'allenamento, voglio avere voce in capitolo. Magari, da qualche altra parte, questo può dare fastidio. E questo suona strano. Suona strano, perché luglio di un anno fa, quasi un anno fa esatto, scriveva a Repubblica, l'allenatore, quindi parlando di Pioli, senza Maldini e Massara e senza Ibraimovic, avrà poteri quasi assoluti a Milanello, nella gestione del gruppo e non solo. Sarà quasi un tecnico all'inglese, il che accresce parecchio le sue responsabilità. Che cosa è cambiato da un anno a questa parte? Che cosa è cambiato nell'approccio del Milan che oggi invece, attraverso le parole di Ibraimovic, dichiara che Fonseca sarà solo un allenatore e che il lavoro e il resto lo fanno gli altri? Non lo so. È chiaro che arrivati alla fine di questo nostro momento goliardico, possiamo semplicemente dire che le parole le porta via il vento e non le bici di Vornesi, ma poi dopo il campo risponderà con l'unica sentenza inappellabile. E questo è vero. Pertanto, seppur io sia parecchio dispiaciuto di non vedere una squadra come il Milan, con i tanto sbandirati conti a posto, con una squadra comunque sana, con una squadra con del potenziale, prendere un allenatore che dice queste cose, che parte con l'intenzione di vincere, che parte con l'intenzione di portare in alto la squadra, poi che ci riesca o no un altro discorso. Ma un allenatore come Antonio Conte è anche un allenatore che migliora i giocatori, l'ha detto anche lui. Ed è vero, perché ci sono tantissimi casi, l'Inter di adesso è figlia dell'Inter di Antonio Conte. Mi dispiace, ecco, mi è dispiaciuto, e questo non per voler dar contro a Fonseca, ci mancherebbe, anzi, lo sapete, sono sempre stato il primo a dire che è giusto dare tempo e credito al nuovo mister, perché il nuovo allenatore del Milan merita la nostra fiducia. E mi auguro tanto che possa fare bene, mi auguro tanto che possa fare meglio di Antonio Conte, ma nella giornata della presentazione di Conte a Napoli, dopo che per tante settimane ho sperato davvero che questa società potesse fare il passo decisivo verso un progetto ambizioso, mi sono reso conto, purtroppo, che a quanto pare insomma le ambizioni non hanno dimora a casa Milan, ma ovviamente come dico sempre spero vivamente di sbagliarmi.